Capitolo 5 E Gesù, vedendo le folle, salì sul monte, e postosi a sedere, i Suoi discepoli si accostarono a Lui. Ed Egli, aperta la bocca, li ammaestrava dicendo, Beati i poveri in ispirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che fanno cordoglio, perché essi saranno consolati. Beati i mansueti, perché essi erediteranno la terra. Beati quelli che sono affamati ed assetati della giustizia, perché essi saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Beati i puli di cuore, perché essi vedranno il Dio. Beati quelli che s'adoperano alla pace, perché essi saranno chiamati figliuoli di Dio. Beati i perseguitati per cagion di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi, quando voltraggeranno, e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro a voi ogni sorta di male per cagion mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché, così, hanno perseguitato i profeti, che sono stati prima di voi. Voi siete il sale della terra, ora, se il sale diviene insipido, con che lo si salerà? Non è più buono a nulla, se non ad esser gettato via e calpestato dagli uomini? Voi siete la luce del mondo, una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta, e non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, anzi, la si mette sul candeliere, ed ella fa lume a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini, affinché veggano le vostre buone opere, e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Non pensate che io sia venuto per abolire la legge, o di profeti, io son venuto non per abolire, ma per compire, poiché io vi dico in verità, che finché non siano passati il cielo e la terra, neppure un iota, o un apice della legge passerà, che tutto non sia adempiuto. Chi dunque avrà violato uno di questi minimi comandamenti, e avrà così insegnato agli uomini, sarà chiamato minimo nel regno dei cieli. Ma, chi li avrà messi in pratica ed insegnati, esso sarà chiamato grande nel regno dei cieli. Poiché, io vi dico che se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, voi non entrerete punto nel regno dei cieli. Voi avete udito che fu detto agli antichi, non uccidere, e, chiunque avrà ucciso, sarà sottoposto al tribunale. Ma io vi dico, chiunque sa dire contro al suo fratello, sarà sottoposto al tribunale, e chi avrà detto al suo fratello, raca, sarà sottoposto al sinedrio, e chi gli avrà detto, pazzo, sarà condannato alla genna del fuoco. Se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare, e qui vi ti ricordi che il tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia qui vi la tua offerta dinanzi all'altare, e va prima a riconciliarti col tuo fratello, e poi viene a offrir la tua offerta. Fa presto amichevole accordo col tuo avversario, mentre sei ancora per via con lui, che talora il tuo avversario non ti dia in man del giudice, e il giudice in man delle guardie, e tu sii cacciato in prigione. Io ti dico in verità, che di là non uscirai finché tu non abbia pagato l'ultimo quattrino. Voi, avete udito che fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico che chiunque guarda una donna per appetirla, ha già commesso adulterio con lei, nel suo cuore. Ora, se l'occhio tuo destro ti fa cadere in peccato, cavalo, e gettalo via da te, perché, va al meglio per te che uno dei tuoi membri perisca, e non sia gettato l'intero tuo corpo nella genna. E se la tua man destra ti fa cadere in peccato, mozzala e gettala via da te, poiché va al meglio per te che uno dei tuoi membri perisca, e non vada l'intero tuo corpo nella genna. Fu detto, chiunque ripudia sua moglie, le dia l'atto del divorzio, ma io vi dico, chiunque manda via la moglie, salvo che per cagion di fornicazione, la fa essere adultera, e chiunque, sposa con lei che è mandata via, commette adulterio. Avete udito pure che fu detto agli antichi, non is per giurare, ma attieni al Signore i tuoi giuramenti. Ma io vi dico, del tutto non giurate né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei Suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del Gran Re. Non giurar neppure per il tuo capo, poiché tu non puoi fare un solo capello, bianco o nero, ma sia il vostro parlare sì, sì. No, no, poiché il di più viene dal maligno. Voi avete udito che fu detto occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico, non contrastate al malvagio, anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porggigli anche l'altra. E da chi vuol litigare teco e toglierti la tunica, lasciagli anche il mantello. E se uno ti vuol costringere a far seco un miglio, fanne con lui due. Da a chi ti chiede, e a chi desidera da te, un imprestito, non voltare le spalle. Voi avete udito che fu detto, ama il tuo prossimo, e odia il tuo nemico, ma io vi dico, amate i vostri nemici, e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figliuoli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa allevare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno anche i pubblicani lo stesso? E se fate accoglienze soltanto ai vostri fratelli, che fate di singolare? Non fanno anche i pagani altrettanto? Voi, dunque, siate perfetti, come perfetto il Padre vostro celeste.